Buongiorno, eccoci qua! Senta signora, buongiorno, mio figlio c'ha 39 di febbre e il vomito, ma voleva venire, eccoci qua! Benissimo, ha fatto benissimo l'ora a portarlo stamattina, un vero genio! No scusa caro, che ora hai detto che vai a dormire tu? Alle 22.30? No ma ecco perché ha la faccia sempre addormentata, chiamo subito la mamma! Signore, senta, scotti, io le dico che suo figlio sta cagando da tre ore, se vuole venissero a riprendere, bene, se no lasciamo intasare la scuola! Ma mio figlio ha mangiato oggi, ha mangiato tutto, ma ha mangiato anche la verdura, la cacca l'ha fatta, gli è passato il raffreddore e il pane, l'ha finito il pane! E scusa non metterti, magari la colla in bocca, vero? Ma stella, non preoccuparti se ti sei rovesciato il bicchiere, è solo la sesta volta oggi, sta potendolo! E scusa non metterti, magari i pennarelli nel naso, vero? Io la senta con tutto l'amore del mondo mi perdonerà se non ricordo precisamente la consistenza della merda di suo figlio, vero? Ah, ecco! Scusa, magari non picchiatevi sempre, vero? Ari, ascolta, senti un po', ma secondo te il papà di Eleonora è single? Ahahah!